Serena Palucci, Volt 21.2, categoria interna. Xenio, stai, va vede, va vede, ora gli inguadro la molletta qua. Oh, quale è la barra? Maria, chiunque mi mostro il stand di clacson, chiunque dovesse venire, blocca, non mi ricoglio. Ci sei? 5-5, poi tutti da due. 10 4, 3, 2, 1, dai! 1 2, respira Respira Lascia Respira Serena, respira mentre fai, dai, vai. 5-7, 8-8, grazie. Brava, un altro. Butta. Respiriamo due alla volta, eh. Due alla volta, respira. Vai Uno Vai in altro Due Butta Tre Due Uno Vai Due Butta Tre Due Uno Vai Butta Tre Due Uno Vai Butta Tre Due Uno Vai Ok Lascia Barra Respira Cinque alla volta No Non è bene Sì Tre Se vuoi questi li puoi Vedi come ti vanno Dieci 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 Lo puoi fare tu Vai Uno Due Tre Fai dieci 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 Bravo Nove Vai Giù Fermo Respira Togli Spuji Favolette Parca Cinque Quattro Tre Due Uno Vai Dieci Bravissima Giù Respira Aspetta Cinque secondi Quattro Tre Due Uno Chiudilo Va Tienilo Uno Dai Ok Ferma Recupera Da adesso Uno alla volta Da adesso Uno alla volta Ferma Non c'è niente in golo Stai bene Vai Ok Stai tranquillo Tre Due Uno Drop and go Vai Uno Lascia Vai Respira Che re Dai Fuori l'aria Ok Vai Riprendi l'aria Tranquillo Dai 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 Sì 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 Tre Vai Lascia Aspetta Vai Dai Contati 2 secondi 2-3 secondi E riparti Dai Lascia Dai 2-3 secondi E riparti Aspetta 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 Dai Bravo Bro Aspetta Aspetta Respira Dai 3-2 Un Vai 1-3 secondi Fermo Respira Giustatemi sto bilancio Respira bene Rilla 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 Aspetta 5-4 Ora ti ingazzancio Arrivi Vai Sali Dai Dai Uno Due Tre Quattro Altro Brava Giù Fermo Respira Falli da tre Sere Falli da tre Falli da tre Non ti chiude Apri il petto Tre Due Uno Da tre Larga un po' sta presa Dai Uno Brava Due Brava Tre Giù Basta Respira Un po' sta presa Lo puoi dirglielo Lo puoi dirglielo Sì Lo puoi dirglielo Vai Riparti Dai altri tre Dai Brava 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 Giù Fermo Quattro Tre Due Uno Dai Apri il petto Bravo Tredici Quattro Sì 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 alla fine due le recuperiamo Fa due alla volta se ne è morto Tre Due Uno Dai Spingi forte con le gambe Dai Uno Un altro Bravo Spingi Due Dai riparti Dai Dicicisette Brava Brava Giù Fermo Quattro Ce l'hai Eh Quattro Dai Dai Due da due Vai riparti Dai Diciannove Ok Rifai due Rifai due Grazie Grazie Dai Sere hai finito, dai bravissima, giù dai 7 e 5 dai dai, uno eh ce ne sono dieci, dai dai uno, bravo bravo e lei, vai dai, basta dai, basta dai, basta ti sape tu dai, ultimi 5 dai 6 7 lascia dai, torna subito, vai, uno, uno e uno, dai uno e butto, dai quando c'è da 7? dai, 13, dai, uno e butto dai, 8, lascia così, così, lascia, lascia, vai, vai 3, 2, 1, vai, riparti dai, brava lascia dai bravo 10 bravo 2 respira, va la barra, questi dieci mascolato li fai, uno alla volta li fai, vai uno alla volta li fai, tanto, c'è l'angola tempo dai, vai vai, vai, vai giù, fai, 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 si è scivolato fai, chiudi sto pollice fatta male, no? chiudi spingi col sedere quando stai su, spingi, spingi dai uno, giù, che non ce la fai, dai, recupera aspetta aspetta scusa, prendi quell'altro chiede oh, va bene eh, dai serai, forte con le gambe, forte aiutati di più con le gambe, serai, dai forte, forte bravo 2 no, no, uno, 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 uno devi fare fermo li amo bravo dai 3 ci sta, ci sta serai posizione così forte più forte che puoi vai da sole, c'è due campone dai dai, forte brava brava 4 dai, dai aspetta un po' di più mi fa venire l'anziamo alla fine dai vai quando sta 4 dai dai il quinto dai forte con le gambe, dai serai, forte dai 5 ma che stai a dire, dai 5 5 ce n'hai oh dai dai serai ti allarga un po' sta presa e ti fa venire e vabbè ci sta fermi ci sta un baracalli qualcosa da tagli metti un baracalli serai oh metti un baracalli se ti fa male eh se no continua a mano lì quell'altra un po' di tape ci abbiamo qualcosa un po' di tape non ce l'avete dai, brava 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 dai, solo quattro dai allarga la presa teni un po' allarga, allarga, allarga dai brava solo tre solo tre oh hai finito oh brava hai finito oh bacino vai spingi vai brava due solo due perché no stai a dire no da un'ora diamo prendi 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 c'è tutto il tempo naso concentra dai uno brava 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 l'ultimo dai l'ultimo l'hai chiuso aspetta 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 non ti fai ni la fretta aspetta dai eh lei la furia quella furia aspetta troppo stretta che allarga un po' adesso è presa troppo stretta per la stanchezza eh non entrare con le spalle no non andate più dai ma vai ma vai vai bravo dai bravo bravo quando mettiamo 60 60 20 ok 5 5 e 5 metti 10 dietro oh è giusto così 60 sì 40 40 45 45 60 sì 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 no è qua guarda è tua eh non si è la quella è la terza come ho già pure le gambe stai devi stare fermo a due minuti ancora ne curva stai e qua vede pure staccio da 5 Ok, c'ha le mani piccole, se ci metto perde il grip, infatti se ne potremmo provare, fa 65, Dove giocare? Fagli accertare qua e preparateli due e mezzo vicino, 5 e 5 e 5 e metti 10, metti 5 e 5, E' una bella scurtecati, si vede, che cazzo, mi ha fatto una piega, il problema è che lei c'ha la mano piccola, mezza la barra, gli si imbaccottisce la barra, non c'ha più grip, non riesce a chiare, oh, non c'ha più grip, non c'ha più grip, non c'ha più grip, non c'ha più grip, respira, respira, sdrammatizza, non arrivi con le mani, vai con la bocca, un power, un hang squat e uno shoulder to over, push press, push press, push press vinto, quello che vuoi, shoulder to overhead, come ti parlo? push jack, push press, push press vinto a stella, fermati, devi recuperare ancora, aspetta, a 13 e 58, 14, 14, 19 e 58, finisce il tempo, vabbè, 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 a spesere, siamo a 5, 4, 3, 2, 1, dai, 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 che te fa quei, vai, 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 ferma, respira, dai, vai, ci ho capito, mi si fa attiettare una serie, mi si fa attiettare, dai, vai, 25, c'è una 65, ah, sei re, sto split, o lo correggi o non lo fa, ok, è uno smangorio che hai fatto, o fai qua, ok, o fai il push press, che tanto mi sa che, pure tu, non metti push press, lo split così, non l'azzarda che perdi l'equilibrio, l'azzarda qualcosa in più sarebbe, a 18, eh, 5, 4, 3, 2, 1, dai, forte come prima, le gambe, dai, gambe, bravo, ferma, brava, dai, ferma, ritrova il grip, forte con le gambe, pancia dura, dai, 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 aspetta, 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 quanto era? 19,58, aspetta, aspetta, lo rifacciamo un tentativo, sarebbe, devi togliere sto, sta cosa, che fia, non è un cazzo quello, o fai frongerto, o fai push press, la gambetta dietro non ti serve a niente, è solo balletto, capito? O proprio a fa qua, e atterri sui piedi, oppure continua a pressare, che è la cosa migliore, e lo so che sei stato, fai push press così, trova un push press, che vai meglio, trova un push press, andiamo, carica forte, pancia dura, spingi forte così, sul posto, ti sbilanci solo, dai, che ce l'hai queste, ce l'hai facile, oh, oh, un push press fatto bene, basta, lascia sta split e cazzo che mo' non è, incazzata, ma finisce un po' a po' a po'. No, lasciatela perdere, però, zitti, basta, concentrati, 10 secondi, dai, ragazzi, sì, sì, basta, vai, lo sei tu, dai, vai, tre, due, uno, vai, dai, bravo, fermala, fermaci, push press forte con le gambe, pancia dura, dai, 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 dai,